Quella che vedete alle mie spalle è l'apparecchiatura Unity, l'unico sistema in Italia che integra in una sala di trattamento di radioterapia una risonanza magnetica ad alto campo. Questo tipo di sistema, un sistema innovativo di radioterapia, è stato installato circa un anno fa. Abbiamo cominciato con i primi pazienti nell'ottobre 2019 e abbiamo raggiunto in questi giorni il numero di mille sedute di trattamenti effettuati in più di 160 pazienti. E' un numero importante perché conferma l'affidabilità di questo sistema innovativo e soprattutto abbiamo dei dati preliminari molto significativi in merito ad esempio nel trattamento della prostata in solo 5 sedute. Abbiamo già registrato nei pazienti risultati molto interessanti in termini di immediata significativa riduzione del valore del PSA. Abbiamo anche registrato una negativizzazione degli esami strumentali quali PET o risonanza magnetica nei pazienti ad esempio oligometastatici che sono stati trattati in alcune sedi che selettivamente abbiamo individuato in situazioni molto particolari che noi chiamiamo oligometastasi. Stiamo avviando altri tipi di trattamenti ad esempio sul pancreas e sul fegato quindi si espande la possibilità di utilizzare questo tipo di apparecchiatura che è un'apparecchiatura molto promettente e che rappresenta diciamo una delle evoluzioni maggiori della radioterapia ovviamente non invasiva. Sottolino questo aspetto perché abbiamo anche nei nostri pazienti valutato ovviamente la tossicità preliminare che è praticamente assente e abbiamo anche registrato con dei questionari in modo oggettivo la possibilità di mantenere un'ottima qualità di vita anche per i pazienti più fragili. Se consideriamo ad esempio i pazienti più anziani o i pazienti che spesso hanno delle difficoltà ad effettuare interventi chirurgici o trattamenti farmacologici la radioterapia e questo tipo di radioterapia sembrerebbe essere assolutamente ben tollerata. Questi dati abbiamo avuto modo di pubblicarli abbiamo avuto modo di condividerli con la comunità scientifica proprio in questi giorni abbiamo un meeting virtuale ovviamente in cui con i colleghi le altre 20 strutture al mondo che hanno questo tipo di tecnologia stiamo condividendo questi risultati preliminari e siamo veramente molto orgogliosi di dire che si tratta di una tecnologia innovativa ben tollerata e i dati preliminari ci dicono anche che sembra essere molto efficace come la radioterapia è quando viene fatta con precisione.